Riprendiamo questa diretta speciale dalla palazzina di caccia di Stupinigi e proseguiamo questo viaggio per scoprire un po' cosa sta succedendo qui a Floreal. Abbiamo queste due nuove ospiti che si chiamano Matilde e Elena Balsani. Abbiamo un sacco di ospiti, non ci ricordiamo ancora bene i nomi. Avevo dei dubbi sui cognomi. Ciao Elena, ciao Matilde. Volevamo subito chiedervi che cos'è Flower Farm, questo spazio che c'è qui a Floreal? Allora sì, la Flower Farm in generale è un'azienda dedicata alla coltivazione e alla produzione di piante da fiore, quindi poi utilizzate per il fiore reciso. Noi abbiamo adesso preso questo spazio che si trova proprio qua al di fuori della palazzina all'interno del Podere San Giovanni e abbiamo realizzato, stiamo per realizzare insomma una Flower Farm il più possibile con tecniche sostenibili, quindi di coltivazione sostenibile. Abbiamo appunto riqualificato questo spazio che è di circa 2500 metri quadri e niente, lo spazio sarà organizzato in diverse aree, diciamo che ci saranno delle aree dedicate proprio alla coltivazione del fiore reciso, ovviamente di diverse specie, organizzate in fasce lineari. Poi ci saranno altre zone dedicate invece alla sperimentazione di miscugli, di coltivazioni di specie erbacee principalmente e poi un'area dedicata invece alla coltivazione di grani e piante erbacee in associazione tra loro. Il progetto è stato realizzato da noi, quindi da Orticola a Piemonte, in collaborazione con Panacea che appunto è specializzata in grani antichi principalmente e ovviamente in collaborazione con alcuni dei vivai che collaborano con noi qua a Flor, che sono anche qua presenti, e che ci forniscono quindi proprio il materiale vegetale, quindi le piante ecco. È stato realizzato il più possibile tutto a chilometro zero, tra virgolette, nel senso che i produttori sono tutti produttori locali, quindi non c'è trasporto e insomma le piante vengono prodotte in zona e non so se vuoi aggiungere qualcosa. E collaborate anche con le scuole, giusto Elena? Ecco, l'idea è di avere uno spazio multifunzionale, quindi con varie funzioni, non solo la produzione e la coltivazione di fiori da reciso, da taglio e vendita diretta, ma appunto uno spazio che sia dedicato ad attività educative, non solo al pubblico ma l'idea è anche quella di presentare il tema alle scuole, al pubblico, perché purtroppo questo è un tema che non è molto conosciuto, non è molto affrontato, e appunto far vedere quali sono i lati positivi della coltivazione di fiori a filiera corta, quindi sostenibili con chilometro zero, appunto con la collaborazione con altre attività, altre del Piemonte, insomma tutto molto sostenibile. Per curiosità, quali sono i fiori di filiera corta che possiamo avere qua in Piemonte, in questa zona? Sì, ecco, diciamo che noi tendiamo alla coltivazione e produzione di wildflowers, cioè quelle specie erbacee perenni annuali che vengono praticamente spontaneamente nelle uole, nei terreni marginali, troviamo ad esempio appunto nelle aree degradate della città e questi fiori che tendono a crescere spontaneamente sono utilizzati a volte anche nella progettazione, perché hanno basse richieste di manutenzione, l'irrigazione non avviene, avviene saltuariamente, e quindi queste specie vengono appunto utilizzate sia nella progettazione, come ad esempio il papavero, il classico... Esatto, il papavero, il fiordaliso. Il papavero, il fiordaliso, e vengono usate in appunto progettazione, ma non solo, perché servono anche a riportare la biodiversità all'interno di aree comunque abbandonate, marginali, che sono fiori che richiamano insetti impollinatori, ma non solo, anche le epidotteri, farfalle, quindi tutti coloro che non ci sarebbero all'interno di aree molto industriali. Sì, diciamo che appunto questo concetto della biodiversità è sicuramente un concetto molto importante all'interno degli ambienti urbani, quindi il riportare la biodiversità all'interno degli ambienti urbani, ma anche all'interno degli ambienti agricoli. Noi qua ci troviamo in un'area principalmente agricola, che è notoriamente un'area, diciamo, caratterizzata da monoculture, e quindi è fondamentale anche qui riportare della biodiversità e quindi incrementare un po' l'impollinazione e in generale appunto la biodiversità vegetale, perché si sta perdendo sempre di più chiaramente con le coltivazioni intensive, per cui creare un'area del genere è sì, ovviamente bello esteticamente, ma è anche molto utile. Sì, esatto. Abbiamo visto proprio che appena abbiamo piantato le piante siamo stati invasi da farfalle, dalle farfalle. Sì, è stato proprio, l'abbiamo visto con i nostri occhi dopo cinque minuti che avevamo piantato le piante. Beh, adesso vanno di moda questi corridoi dedicati proprio agli insetti impollinatori che si creano anche sui giardini delle città. Basta cercare in effetti delle piante adatte e metterle sul proprio terrazzo, sul proprio spazio all'aperto e questo aiuta a creare delle tappe dove gli animaletti possono posarsi. Sì, esatto. Anche aree di rifugio non solo per insetti impollinatori, ma anche proprio per piccoli animali che trovano un luogo protetto dove poter stare. Sì, infatti diciamo che lo scopo principale dell'area è sì, ovviamente anche la produzione di fiori recisi, ma principalmente diciamo che gli scopi sono sperimentali e didattici, quindi far conoscere questo concetto il più possibile ai grandi e ai piccoli ovviamente e sperimentare anche pratiche di coltivazione di specie erbacee adatte agli ambienti urbani. Quindi lì avremo delle aree, un'area in particolare con alcune vasche che vorremmo dedicare all'esperimentazione, alle coltivazioni di miscugli di specie erbacee che possono essere adatte a diversi ambienti urbani. Esatto, un mix di specie adatto al contesto urbano. Con sempre meno esigenze di manutenzione perché le richieste ad oggi chiaramente sono sempre più bassa manutenzione, basse richieste idriche, resistenza a inquinamento, resistenza a alte o basse temperature, esatto. E quindi è sempre più importante riuscire a diciamo creare delle associazioni. Sì, percorrere questo percorso di sostenibilità che ad oggi è molto richiesto in vari settori, anche nella floricoltura c'è questa necessità. È molto bello e quindi insomma in questi giorni si può andare a vedere, a scoprire un po'. Sì, lo spazio è aperto quindi si può visitare, non è stato realizzato completamente, per ora sono state fatte le prime lavorazioni in fase di realizzazione, per cui c'è solo un'area che è diciamo pronta. Abbiamo messo a dimora alcune delle strisce di fiori, sono sette in totale. Il progetto ne prevede 14, per ora abbiamo iniziato con sette strisce, con specie da fiori a reciso. Sì. Specie da fiori a reciso e poi man mano il progetto consiste appunto nei diversi lotti, multifunzione e così. Esatto. Quindi approfittatene, insomma se venite a Floreal, a Stupinigi, alle porte di Torino, approfittate di inserire nella vostra visita anche uno sguardo a questo bel progetto della Flower Farm. vi accompagneranno, vi spiegheranno e vedrete quello che stanno facendo, un lavoro che forse non appare così scenografico, ma che è molto molto importante per la sostenibilità e anche insomma aiutare, aiutare questa biodiversità che si sta perdendo. Prima parlavi, Matilde, dei grani. So che c'è una ricerca enorme sui grani antichi, c'è uno scambio anche di semenze notevole. Sì, infatti abbiamo la fortuna appunto di collaborare con Panacea, loro sono specializzati proprio nella produzione di grani antichi e nell'utilizzo dei grani antichi, quindi vorremmo appunto riportare anche questo per far conoscere il più possibile questo concetto. Noi lì abbiamo pensato ad un'area dedicata alla coltivazione di grani antichi in associazione con alcune specie da fiore, per esempio il papavero e il fiordaliso, sono due specie molto importanti anche nel controllo dei parassiti, sono in grado di controllare e di aiutare quindi il controllo e l'avvicinamento di alcuni parassiti che chiaramente altrimenti richiederebbero l'utilizzo di pesticidi e di sostanze chimiche che ovviamente non vogliamo, quindi anche servirsi di metodi naturali è insomma molto importante. Esatto, vedere proprio la differenza con un campo appunto dove c'è il diserbo, come monocultura, insomma è molto, diciamo, poco presente a biodiversità. Invece la nostra associazione prevede appunto anche l'inserimento di specie che portano in pollinatorio comunque anche non solo funzionale ma proprio la differenza anche a livello come si presenta. Ma lo vediamo, credo lo possiamo vedere tutti passando per le strade dando un occhio ai bordi delle strade ogni tanto vedi questi fiori che emergono appunto papaveri, fiori d'alisi in modo particolare nei campi di grano e in altre zone invece non li vedi. Quindi proprio visivamente palese. Esatto, perché proprio diciamo che non è ben voluto un papavero, un fiori d'alisi all'interno di una coltivazione di grano dà quasi fastidio invece a molti molti fattori positivi che dovremmo appunto seguire. Grazie allora, grazie mille a entrambe Elena e Mattia e buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.